Rallallà, 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 rallallà. Siamo calciatori in gamba, giochiamo al suon di samba, siamo con sacchini veri e siamo immobiliere. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù, di Bonsacco vi vogliamo prevenire. Al Bonsacco sono bastati 90 minuti regolamentari per staccare il passe per la finale di Coppa Toscana che si terrà il 15 gennaio 2014 contro la Bucinese. Grazie a una doppietta di Cristian Brega, il Bonsacco batte per 2 a 0 il pesce ozanese e vola in finale. Parte subito in avanti il Bonsacco con Tamberi, la sua palla messa al centro, Gemignani libera. Brega lavora una bella palla per Tamberi, il sinistro del numero 7, Bonsacchino, palla che si stampa sul palo. Poi Balestri offre a Brega la possibilità di dire il tiro, palla al lato. Lunardi, esordio per lui con la maglia rosso-blu, il suo cross è facile la presa del portiere. Si fa vedere il pesce ozanese, il cross di Melani Cappellini esce attento. Ancora Tamberi sulla sinistra, il suo cross in mezzo per la testa di Cristian Brega, palla di molto al lato. Doveri, Tamberi, Lunardi, il cross per il centro dell'area, Gemignani prima e Melani poi sventano la minaccia. Balleri si incune a centro campo, steso con le cattive dal terzino lucchese, primo munito dell'incontro. Brega lascia sfilare per Brondi, il tiro, debole, facile la parata del portiere del pesce ozanese. Doveri sulla sinistra, si incunea tra Melani e Pera, strattonato dal terzino ma l'arbitro lascia proseguire senza concedere neppure la punizione dal limite. Ancora Doveri sulla sinistra, cerca il cross sul secondo palo per Tamberi che non ci arriva. Pera, sempre molto aggressivo, un brutto fallo su Lici, secondo munito dell'incontro. Beccato dal pubblico il numero 4 per i fatti successi in campionato con Biagio Pagano, l'espulsione che costò 5 giornate all'attaccante Fonzacchino. Balestri in area per Doveri, l'arbitro ferma il gioco per un fallo di mano del numero 10. Il cross di Lunardi, Doveri, strattonato, l'arbitro a un passo decide di far proseguire l'azione senza concedere il penalty. Finisce il primo tempo sullo 0-0, la ripresa non vede nessun cambio da parte delle due squadre. Barzotti, scambio con Balestri, entra in area il difensore Ponzacchino, steso da Gemignani per l'arbitro Baschi di Livorno, è calcio di rigore. Rigore che se ne incarica lo specialista Cristian Brega, Ponzacco in vantaggio al 48esimo con il rigore realizzato da Cristian Brega. Primo cambio per Mister Lazzini, esce Doveri dentro Bortoletti. In contropiede Balestri fa sportellate con la difesa avversaria. Il cross in mezzo per Brega, anticipato da Pera e poi commette fallo l'attaccante Ponzacchino. Sul corner di Tamberi, Brega, il suo tocco è deviato da Strufaldi e quindi si tratta di autogol. Il Ponzacco raddoppia e mette in cassaforte la qualificazione. Un bobber che entra, un bobber che esce, cori per entrambi. Dentro Granito, fuori Brega, secondo cambio per Mister Lazzini. Appoditissimo il numero 9, rosso-blu. Gemignani di testa, palla che si stampa sulla troversa per un'errata uscita del portiere Cappellini. Esce anche Tamberi dentro Agostini, tutti i cambi realizzati da Mister Lazzini. Qua è Bortoletti che viene deviato all'ultimo da Gemignani. La partita finisce, il Ponzacco batte 2-0, il Pecio Zanese vola in finale.